Se ci sono delle domande ci rendiamo conto che abbiamo spaziato dalla carbonara ai liquori, quindi il menù era ricco, abbondante, però abbiamo trattato diversi argomenti. Se avete delle domande siamo a disposizione per fornire delle risposte. Ci sono le ragazze che eventualmente con il microfono possono avvicinarsi per darvi parola. Se non ci sono domande... C'è una domanda. Ah no, c'è una domanda, attenzione. Grazie. Grazie, buongiorno. Vi avrei una curiosità riguardante la generative AI. Se io pongo due volte la stessa domanda, identica con lo stesso testo, all'algoritmo, mi risponde con la stessa identica immagine? Dipende dall'algoritmo, perché in realtà in ingresso di solito c'è una parte che è di rumore gaussiano che fa in modo che l'immagine generata sia diversa. Quindi diciamo, se le cose sono state fatte bene, no. Perché questo è quello che criticano molti artisti. L'assenza di, non so, una scintilla iniziale che inserisce un errore, una differenza, è quello che andrebbe ad appiattire la produzione multimediale, artistica, così. Io direi che tecnologicamente si può fare in modo che non esca sempre la stessa immagine. Se esce la stessa probabilmente è perché è stato deciso che deve funzionare così. O perché magari vogliono mettere un sistema di cache, così non devono ogni volta chiamare la parte dietro che costa soldi e ridarti la stessa immagine. Abbiamo spaziato dai modelli alla gestione della complessità di Google. ci rendiamo conto che abbiamo, diciamo, siamo passati proprio dalla A alla Z, diciamo, dal cosa al come. Comunque siamo qua, quindi se poi qualcuno ha qualche curiosità e vuole lasciarsi sedimentare un po', siamo passati. Grazie. Siamo a disposizione. Grazie a tutti. Grazie ancora.